Grazie a tutti. Siete un po' stanchi? Un pochino. No, eh? Adesso... Allora, è stato realmente... È un piccolo modulo, in realtà. Poi magari facciamo una chiacchiera, delle domande, approfondiamo alcuni temi di cui abbiamo discusso in queste ore. Per farvi riflettere, per riflettere insieme su come, alla luce di tutto quello che ci siamo detti in queste ore, alcuni fondamentali del marketing che non vogliamo cambiare. Sia chiaro, nessuno... Non mi sognerò mai di contraddire alcuni dei fondamentali più sani che ci sono intorno a questo mestiere. Però sicuramente, e non io, altri prima di me, hanno, come dire, dato ad alcuni capisaldi del marketing delle nuove interpretazioni. Cioè, quando qualcuno arriva a dire che per posizionarci bisogna prendere posizione, non sta fondamentalmente contraddicendo il quadrato semiotico. Sta semplicemente aggiungendo a quel quadrante un elemento di pensiero in più, un elemento di riflessione in più. Che è quello di invitare chi fa mercato, oltre che posizionarsi sui quadranti, di sforzarsi, dove c'è, chiaramente, dove ci sono le condizioni, sforzarsi di prendere realmente posizione sul mercato. Ed è tutto il discorso che abbiamo fatto fino a qui. Adesso proviamo a vedere una teoria che è stata qualche anno fa messa a punto da un signore che ha un nome impronunciabile, che si chiama Brian Feders-Tenot, il quale, guardando le famose 4P del marketing e analizzando in profondità i temi di cui abbiamo parlato, quelli di atteggiamento, quelli di insight, quelli di rilevanza, di credibilità, e soprattutto quello che stava succedendo al marketing contemporaneo, ha provato a ridefinire le 4P. Parlando di un marketing, questo qua è il signore, Feders-Tenot, se volete andare a vedere in rete, parlando di 4E. A proposito, guardate che le 4P, poi qualcuno le ha fatte diventare le 4T, qualcuno le ha fatto, insomma, di letteratura su questo tema ne trovate abbastanza. Diciamo che il passaggio dalle 4P alle 4E è sicuramente uno dei passaggi più credibili da questo punto di vista, perché invita semplicemente a fare uno sforzo in più rispetto a quello che era il marketing di qualche tempo fa. Provate voi. Cioè, proviamo insieme. Quale? Allora vale tutto. erotica potrebbe essere i riflessi pronti, quando io dico una cazzata tu spegni lo streaming. Allora, questo è Enzo, vero? No, allora, ragazzi, però, non sparatele a caso. Allora, ho detto, non sparatele a caso. Allora, io vi metto qui le 4P. Allora, qual è la seconda P? Product. Giusto? La terza? Placement. Che vuol dire? e l'ultima? No. Pro-mo-sion. Allora, fate, a questo punto, fatele diventare delle... delle... Per esempio, partendo dall'ultima, la P di promozione, cosa potrebbe diventare? Cioè, se una volta era... La scrivo. Vi piace? È giusto? Secondo voi? Product o placement, ragazzi? Cioè, il prodotto diventa esperienza. Corretto? Tutti d'accordo? Facciamo come i grillini, alzate le mani. No. Siamo d'accordo? Sì, appunto. Voi alzate le mani, poi scrivo quello che voglio. Ciao, Beppe. Ascolta. Ci caccia. Sapete che non lo farete il secondo incontro? Li chiudo. Le mani viene qua, chiudo. Gianluca mi scrive da Trani, dal carcere, però, aspetta. Allora, e Donatella si salva solo perché è incinta e non perché... Allora, a me l'experience piace molto di più sul prodotto che non sulla promotion. e quindi la cancello da qua. E sulla promotion cosa ci mettiamo? Engagement e entertainment. Giusto? Placement che vuol dire distribuzione. Anche voi sopra, non fate i timidi. Il placement è la distribuzione. Quindi, che E potrebbe diventare in inglese? Cioè, se per il marketing è importante avere il prodotto a scaffale sempre nel posto giusto, eccetera, eccetera, dov'è il prodotto nel marketing contemporaneo? Quindi? chi l'ha detto? Chi ha detto everywhere? Come ti chiami? Valerio. Bravo Valerio. È esattamente questo. Il prodotto è ovunque. Questo è difficile, ve lo dico prima, il price. se siete stati attenti il placement vedete cosa diventa? Every place, everywhere. Cioè, il prodotto effettivamente lo troviamo, siamo in grado di, non è più così importante riconoscere la, è sempre importante la distribuzione babà, però c'è un modo diverso di guardare. La promotion, qualcuno mi ha detto che potrebbe essere engagement o entertainment. È giusto? Secondo voi? Siete davvero così convinti? Promozione vuol dire, ragazzi, la promozione è la comunicazione, eh? Ricordatevi il discorso che facciamo stamattina su Brains on Fire? I ragazzi americani, i movimenti, i campagni, quando dicevano che le campagne sono un vocabolario di guerra, invece il i movimenti bravo evangelismo il price che cos'è? Cosa diventa? È difficile, ve lo dico, però se ci arrivate vuol dire che avete capito tutto. No, che verrà, no, mi dispiace, però è esattamente questo, cioè lui ha detto una cosa importante, cioè il prezzo, cioè quello che prima era una transazione, è ancora così, però nel momento in cui io acquisto, tra me e il brand, tra il brand e me, assistiamo a uno scambio di valore, quindi quello diventa exchange. Ok? E poi, questo era il più facile, perché il prodotto effettivamente diventa experience. Allora, visto che comunque siamo all'interno di un laboratorio che si occupa di brand entertainment, no? E fino a qui abbiamo visto come in realtà non esiste un perimetro preciso per definire cos'è il brand entertainment. E credo che non riuscirete mai a definirlo in maniera precisa in questo momento. E se qualcuno verrà a definirlo in maniera precisa, buona fortuna nel senso che ci sono tanti e tali contaminazione di linguaggi nel brand entertainment che è una definizione accademica che comunque è dovuta rischia in ogni caso di essere riduttiva. Cioè c'è del brand entertainment tutte le volte che un brand intrattiene una relazione con la persona che lo sceglie al di là oltre la scelta di consumo. Chiaro, questa è la definizione diciamo più letterale che può essere data un po' accademica un po' didascalica fortemente riduttiva perché a quel punto la domanda successiva può essere quindi dove faccio del brand entertainment e quindi ci sarà quello che vi viene a raccontare che il brand entertainment si fa attraverso dei format quindi ci sono delle agenzie specializzate che scrivono format di brand entertainment ci sono esempi significativi ci sono i famosi video i film della moda in questo momento anche quello è brand entertainment da un certo punto di vista la produzione di contenuti documentari narrazione di impresa lo storytelling ma è brand entertainment anche un posto su facebook da un certo punto di vista perché non è brand entertainment un'applicazione sul mio una brand app sul mio telefonino non può essere nel momento in cui si muove in una logica di brand utility non diventa un oggetto di brand entertainment quindi la cosa che io vi invito a fare è ripulirvi la mente dalla definizione di canale dalla definizione mediatica è brand entertainment tutte le volte che un brand intrattiene una relazione con una persona a prescindere dal media quindi bisogna avere una grande idea lavorare su degli insight precisi perché devi sapere esattamente cos'è che muove la pancia della persona che hai di fronte perché il brand entertainment voi non convincerete mai nessuno a spendere del tempo con voi se non vi dimostrate più che mai interessanti alle persone che avete di fronte ieri sera facevamo l'esempio della metafora della coppia cena da un certo punto e perché è così tutte le volte che entriamo in una relazione dialettica con qualcun altro siamo obbligati a renderci interessanti e l'altro se ne accorge subito perché diventiamo goffi quando millantiamo è vero? cioè quante volte vi è capitato di uscire con qualcuno che millanta semplicemente e poi si rivela un blef al secondo appuntamento al terzo appuntamento non è più così interessante ecco i brand si devono esattamente la metafora guardate la stessa perché le metafore che stiamo inseguendo sono le metafore delle relazioni affettive non più quelle delle belle belligeranti ma i love sono le metafore della fedeltà per esempio la loyalty tu sei fedele a un brand nella misura in cui aderisci al sistema di valori che quel brand ha messo in campo se sei fedele solamente al prezzo di quel brand ti basterà un secondo a scegliere un altro brand arriverà qualcuno che costerà meno e te ne andrai da quella parte mentre se aderisci a una matrice di valori sarà più difficile spostare se DAV è diventata la tua marca perché in quella marca ti ci riconosci beh sarà un po' più complicato andare altrove allora vi voglio far vedere all'interno di questi temi guardate veramente sono pochi esempi alcuni alcuni progetti io li definisco di brand entertainment sono volutamente pescati in ambiti media diversi per sgombrarvi il campo dal ricatto del canale capito? cioè affinché non pensiate che il brand entertainment è solamente il video su youtube ok? quindi vi faccio vedere una fissione che non è quella di mini che vi ho raccontato prima è questo manifesto che è stato messo in una credo che sia in Norvegia e è la pubblicità che è stata messa alla fermata di un autobus di un multisala un cinema ok? vedete il titolo è scritto con tantissimi QR code ma tanti 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 credo che siano cento no molti di più credo che siano insomma oltre 200 QR code eh? bravissimo cioè ognuno di questi QR code è il trailer di uno dei film in programmazione in questa multisala durante l'anno e mentre aspetti l'autobus chi è che stamattina diceva ah ma anche Epic Quest è un cinema stiamo parlando di Unilever un cinema un multisala quindi non è siamo nel mondo della di una realtà piccola però mette pensate la la l'intelligenza ma chi glielo fa fare no? se non la voglia di comunicare in maniera del tutto inedita su un media dei più tradizionali del mondo ragazzi un billboard però costruito in modalità interattiva per intrattenere l'altro ma vi dirò di più uno di questi QR code ha dentro un anno di abbonamento gratis al multisala vallo a cercare e sì perché tu non sai dov'è e quindi bam 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 te lo vai a cercare mentre cioè è proprio è come dire non fermarsi mai è fatto una roba vediamo cosa può diventare ancora vediamo cosa può diventare ancora vediamo cosa può diventare ancora e questo secondo me è un esempio abbastanza importante di brand entertainment poi volevo farvi vedere questo che mi è piaciuto molto perché è un evento perché uno non ci pensa perché quando pensiamo agli eventi pensiamo sempre a delle scatole i cui format sono abbastanza abbastanza codificati c'è l'accredito c'è l'invito c'è la signorina con la minigonna che ti aspetta c'è il gadget quando te ne vai c'è il catering si balla mediamente e poi c'è lo shopper con tutti i gadget allora mediamente e poi ci sono anche delle attività anche questa abbastanza standardizzate io ho lavorato abbastanza nell'automotive e si facevano molto questi mailing quando usciva una macchina mailing proprio lettera busta invito per portare le persone al punto vendita a fare il famosissimo test drive che quando arrivavano i brief del test drive era veramente un casino perché non sapevi più come portarle queste persone in concessionaria nel senso che era un altro lancio di un'altra macchina di cui quello a cui scrivevamo non sentiva minimamente l'esigenza bamboline cose eccetera e invece guardate il test drive di questa di questa macchina che è una smart elettrica che è però vedete il punto di arrivo per favore Allora Però Avete visto come è costruita questa comunicazione? Cosa ti dice all'inizio? Ti dice l'auto elettrica figata eccetera Però è famosa per non avere Lo scatto di ripresa È vero, la maggior parte delle macchine elettriche Chi le ha guidate lo sa Sembra di guidare le macchine del golf O quelle degli autosconti Quando eri bambino, quelle a pedali Questa invece è una macchina che ha come USP, quindi l'argomento E però dice Questa roba qua, vienila a provare E mette su questa cosa Un oggetto fortemente Teatralizzato, fortemente spettacolarizzato Per dire Qualcosa di importante alle persone Che magari, non so se Quante la compreranno eccetera, però Earn media Ed è uno degli oggetti più tradizionali L'evento, il test drive Cioè vedete che siamo all'interno Non c'è un video Sì, per raccontare questa case history Per fare in modo che questo racconto Venga consegnato Alla rete Però il punto di partenza Da cui si parte È qualcosa di molto tangibile È un evento sul territorio Così come è molto tangibile Quest'altro esempio A proposito di piccole O comunque attività site specific Cioè quindi sul territorio Qui siamo Vabbè, ve la faccio vedere Perché è una campagna Secondo me molto bella E racconta Una destinazione Quindi siamo all'interno Del territorio turistico Ok? La destinazione è il Portogallo Guardate come Che razza di roba Questi signori si inventano Per raccontare il territorio Sapete che è molto caratteristico Il Portogallo Ho andato all'oro Grazie a tutti. 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 e a fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a 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 tutti. 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 qua ci parla. a tutti. 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 si. chi. è costato. No. a tutti. No. a tutti. che. a tutti. di tutti. su. che. muovono. gli acquisti. e tutti. . la. la. tu. per usare. cadetti. . la. . 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 una. . 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